Fratelli d'Italia chiede le sue dimissioni, il PD invece dice la sua è una candidatura civica. Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari, alla fine ha sparigliato le carte e si è candidato alla presidenza della provincia di Arezzo, concorrendo dunque con l'uscente Silvia Chiassai, che ha dalla sua tutti i sindaci o quasi del centro-destra. Sono elezioni cosiddette di secondo grado, a differenza degli anni passati, la presidente o il presidente della provincia di Arezzo non sarà eletto dai cittadini, ma dai consiglieri comunali eletti e ovviamente dai sindaci. La partita dunque è tutta politica. No, mi è dispiaciuta perché è un sindaco come lo sono io e non mi sarei mai immaginata la possibilità di poter decidere di candidarsi con l'opposizione, quindi non riesco a immaginare come può tornare a casa e pensare ai propri concittadini che l'hanno riconfermato come me giusto un anno fa possano prendere il fatto che ha deciso a questo punto per una questione personale di candidarsi ma con il PD e con Donate. Ecco, mi stupisce questo. Poi naturalmente c'è libertà di candidatura e quindi ognuno farà la sua corsa, indipendentemente dal mio avversario io farò quello che avevo già in mente di fare, quindi appunto renderò conto del lavoro svolto e di quei progetti che sono già stati decisi e che dovranno essere messi a terra appunto in questi prossimi quattro anni. Prenderò, come ho fatto quattro anni fa, girare tutte le vallate, incontrare tutti i consiglieri di minoranza e di maggioranza, abbiamo già fissato gli incontri dove porterò tutto il lavoro svolto in questi quattro anni grazie anche alla piena collaborazione dei consiglieri provinciali eletti nei primi due anni e negli ultimi due, facendo capire appunto ai territori quello che è stato fatto in questi quattro anni e quello che è già stato programmato e che vorremmo portare a termine nei prossimi quattro.